Le cure odontoiatriche sono le più difficili da erogare da parte del Servizio Sanitario Nazionale, sono costosissime. E noi abbiamo proprio pensato di intervenire in questo campo perché sappiamo quanto hanno bisogno le persone. Cure dentistiche gratuite per le persone e le famiglie in difficoltà. Ad Arezzo arriva l'odontoiatria sociale. Si tratta di un'iniziativa del Comune che ha messo a disposizione la sede in Largo Pieraccini, del Banco Alimentare del Grand Oriente d'Italia e dei Medici Aretini. Lo studio resterà aperto tutti i martedì dalle 15 alle 19. Terapia del dolore, estrazione, otturazione, igiene orale, prevenzione dentale sono le prestazioni che verranno offerte gratuitamente ai pazienti inviati dai servizi sociali del Comune con un'ISE inferiore ai 3.500 euro. Sono in tutto 8 gli odontoiatri che hanno aderito e a rotazione uno di loro sarà lo studio nel giorno di apertura. Si tratta di ridare dignità alle persone perché io credo che se un giovane che non può curarsi per una questione naturalmente di problemi economici ha per esempio bisogno di fare un colloquio di lavoro e non si può presentare perché non ha la bocca in ordine. Ecco io penso che questo è un servizio proprio per ridare dignità alla persona in maniera tale che lui si possa ripresentare a questo colloquio di lavoro con una bocca in ottime condizioni. Oppure penso anche a una signora anziana che non ha più magari neanche il desiderio proprio di sorridere proprio perché gli mancano dei denti. Quindi noi con questo servizio che non è beneficenza ma è solidarietà che la cosa è completamente differente cerchiamo di ridare veramente dignità alla persona. Quindi la centralità per il nostro lavoro è l'uomo, è la persona. Questo credo che sia la cosa più importante.